Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Hola a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video su Minecraft Oggi andremo a provare lo snapshot che è uscito sulla 1.14 per la versione Java Quindi la versione a cui io gioco sempre Detto questo vi dobbiamo lasciare un pollice in su perché se superiamo i 3.499 like Vi porterò un video dove proveremo tutti gli incantesimi della balestra a livello 10.000 Quindi tutti quanti mi raccomando lasciate un pollice in su E detto questo se ancora vi siete iscritti al canale invito ad iscrivervi attivate la campanellina E noi possiamo iniziare subito Ok ciurma e eccoci qui Come leggite sotto Minecraft 18v43b Perché è già uscita dopo a distanza di qualche ora la versione B dello snapshot Single player Creiamo un nuovo mondo Mettiamo naturalmente in creativa Non ci sono altre opzioni e niente E facciamo appunto crea un nuovo mondo Precisiamo subito una cosa Non mi sono spoilerato nulla Ho soltanto letto cosa hanno aggiunto Non ho visto ancora nulla in gioco E pertanto questo qui ragazzi non è uno snapshot review Se volete uno snapshot review Con tutte le varie informazioni eccetera Vi lascio adesso in descrizione Il link del video che ha fatto Eren Che è sicuramente completo E avrà quindi tutte le varie informazioni Inerenti a questo snapshot Mentre questo video qua Sarà più appunto una reaction Da parte mia verso lo snapshot Quindi io so che hanno aggiunto il villager Il pillager Ma non so com'è fatto Quindi tutto questo qui ragazzi Io ancora non le so E sto notando già una roba Ma è cambiata la texture pack Le hanno cambiate Hanno messo le texture pack Che ci avevano presentato Mesi e mesi fa E siamo spawnati in una mega isolona Mi sa E vabbè dai Ok ho messo anche la mia texture pack Anche se purtroppo non c'è il cielo Figo ma vabbè Comunque come isola di test Ci può stare ragazzi Comunque noto che ha ogni tanto Dei piccoli scattini eccoli infatti Ok ok va bene Allora vediamo subito un pochettino Cosa hanno aggiunto Cioè vedo comunque così ragazzi Il menu insieme a voi E vedo subito le novità Quindi se questo genere di serie Mi può piacere dove Io faccio le reaction ai snapshot Senza spoilerarmeli Fatelo solo qua sotto nei commenti Cazzo me quando usciranno i prossimi snapshot Andrò appunto a fare il video Allora Vedo che già qua ci sono due Missing texture Benissimo Iniziamo bene ragazzi Iniziamo bene Ma sto notando anche una cosa però Che c'è scritto qua Stone slab Quindi è la slab di stone E qui smooth stone Ok Quindi mi sa Che hanno aggiunto le scalette Oddio ragazzi Oddio Finalmente Guardate Le scalette Anche l'andesite Il granito Il diorite Tutto Anche le slabine Oh no raga E' tanta roba Vediamo Proviamole subito Uh ci sta Ci stanno No ragazzi C'è adesso Guardate che decorazioni Si possono andare a fare E' fighissimo No raga E' troppo bello C'è già prendere un tipo Che ne so Un bucket d'acqua Sbam Eccola Appunto mi ha fatto danno E guardate E' fighissima come cosa No Ci sta tantissimo Adesso potremo fare un sacco di dettagli Ancora di più Nella nostra vanilla Ma ho notato subito sotto Anche un'altra cosa Molto bella Scendiamo 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 E vediamo Se l'ho visto bene Sì raga Abbiamo tutti i muretti No Oh mio dio Oh mio dio Che figata No vabbè Ma vediamo se questi qui si collegano Uuu Si collegano pure bene Perfetto No dai Raga E' fighissima come cosa Final Cioè Con l'1.14 Possiamo aumentare a dismisurare i dettagli Oh questi qui sono bellissimi Comunque Sapete che questa texture pack Non mi dispiace Essere sincero Io quasi quasi la terrei Poi non lo so Comunque Poi faremo una votazione Nella vanilla Comunque Mi caro Sono belli Sono belli Questi muretti sono Sono veramente belli Mi piacciono un sacco Mi sa che faremo una cosa 1.14 Faremo finalmente il bagno Nella vanilla Con tutti questi dettagli Possiamo nemmeno mettere Ok Pugniamoci un attimo l'invento Vediamo cosa c'è ancora più sotto Ok no basta Ok Trociamo tutte le varie Altre slab Eccetera Eccetera Ok Decorazioni Allora Vediamo un pochettino In decorazioni Mi sembra che non ci sia nulla di particolare Sembrerebbe di no Aspetta E questi No Non ci credo Hanno aggiunto Gli altri tipi di cartelli Sì però così non si può Oh mio dio Schifo Questo qui Mamma mia Sembra una barretta Veramente di cioccolato Però no Devo non fare che tipo Si possono mettere Le scritte colorate Che cavolo Cioè ma mettetelo Secondo me questo qui È il meno peggio Dai Gli altri C'è troppo C'è troppo contrasto Possiamo provare questo qui di Acacia E quello di Acacia non è malissimo Mi piace lo stecchino Questo qua Non male Non male Ma che cavolo è Loom Che cos'è Allora È un nuovo blocco È un banner Prendiamo Banner E questi questi qua che sono Banner pattern School charge Ok Uh No No raga C'è un sistema Un oggetto simile Nelle mod Qui probabilmente Già ho capito Prendiamo un colorante Prendiamo tipo il colorante Red Colorante rosso Eccolo qua Facciamo così E così E direttamente lo stampiamo No spettacolo E se prendo tipo red Vediamo E prendo ancora Come si chiama Il banner Ok sempre bianco Anzi lo prendiamolo tipo giallo Se facciamo così No Cioè è una crafting Per i banner Noi facciamo così tipo Ok E lo prendiamo Lo rimettiamo qua Adesso clicchiamo questo Adesso è tutto rosso Ma possiamo fare tipo Vedete Tutti i vari simboli Adesso craftare il banner È easy Troppo easy Che ne so Mettiamo ora Eh Boh Cosa possiamo mettere Tipo sto rombo Così Cioè è fighissimo Come cosa Spettacolo raga Spettacolo Cioè già è pienissimo Sto roba Cioè ha messo un sacco Di robe di decorative Ma poi è una cosa Che ho notato adesso Cioè subito a vista Cioè allora Dov'è qua Faccina arrabbiata Faccina contenta Faccina sorpresa Ok Poi ho detto che Ho aggiunto anche Tipo la Mysterious Mis No come era Tipo Non c'è però Però forse possiamo Givarcela Ecco qua L'ho letto appunto Nel changelog Perché ho detto comunque Le sono delle cose Di mi ingrassetto Senza spoilerarmi troppo Che cacchio l'ora è Sospicius Steusti È una zuppa Sospetta Questo cosa vuol dire Che appena Giornerebbe la vanilla Già Questa No raga Vediamo gli advancement Ah non ci sono Allora Cioè Voglio mangiarla Si può mangiare Corriamo un attimo Perdiamo anche un attimo di vita Che succede se la mangiamo Cioè ora non so Se c'è anche il crafting O meno Ma intanto Capiamo se si può mangiare Oppure no Ok vediamo Si può mangiare Non ha fatto niente Raga Non è successo nulla No Oddio Allora Ok E ora sono ancora 036 011 E mi sa ragazzi Che sono stati giunti Altri advancement Quindi appena finiremo Gli advancement Della vanilla E aggiorniamo Ne abbiamo subito Degli altri Vabbè Ok Comunque non ha fatto niente Questa cosa Ok E poi mi sarà Adesso ragazzi Che c'è il pezzo Forte Ovvero La balestra 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 che come vi ho detto Nella intro Ha degli enchant Questi enchant Li andremo con noi Poi a caso mai A provare In un video Completamente A parte Perché comunque Già li ho visti Nella pocket edition So come funziona Quindi Già so cosa fanno Ed è calabria Sblocca Eh vabbè Vediamo Uh ragazzi Ci sono tre Advancement Con la balestra Spara con la balestra Uccidi Due nemici Due phantom Con piercing Dobbiamo sparare una freccia E beccare un phantom E subito dopo un altro phantom Con la stessa freccia E ammazzarli E poi dobbiamo Ammazzare un pillager Con la balestra Ok Naturalmente Qui abbiamo appunto Dove stanno Dove stanno Se andiamo appunto Vedere i libri Dovemmo avere Da qualche parte Ecco qua Piercing 4 Poi c'è Quick Change E poi c'è anche Multishot Ok poi questi qui ragazzi Come ho detto Li andrò a provare In un altro video Noi faremo tutti i vari Esperimenti con gli enchant A proposito di libro Ho letto che hanno Modificato una cosa Dei libri E mi sa che Sono molto interessanti Infatti adesso Non andiamo a scrivere Da come ho capito Noi possiamo finalmente Tornare indietro E cancellare Possiamo addirittura Cliccare Selezionare Cancellare Insomma È diventato come Come se fosse un foglio di testo Infatti funziona anche Control V Control C Vedete Possiamo copi e incollare Tutto quanto Fighissima cosa Molto utile Ma adesso Passiamo al pezzo forte Prima di tutto Panda Ciao Panda Salve Oddio che suono strano Che ha fatto Avete sentito Ma voglio subito vedere Invece un'altra cosa Siamo illager Dovremmo avere noi qua Il pillager E lillager Ok Vediamo come è il pillager Uuu Quindi alla balestra Ok Se prendo un villager Attacca Il pillager lo attacca No Sì invece Oddio Raga guardate Però non mi fa tanto male Ok come non detto Mentre Lill E l'amato E che cos'è Ma è un rinoceronte No raga Ma è assurdo Ma è fichissimo Ma ha una cell No tu mi stai dicendo Che quel coso Può cavalcare Quest'altro coso Ma è tipo Un semi boss Villager Beast Spawn Egg Dio Ma se andiamo in Survival Che attacca Game mode Survival Allò Oh cacchio Raghi Vabbè mi faccio col Sì è Ma è pazzo Ma il panda Che sta a fa Ma che succede Se mi metti in mezzo al panda Lo sposta Ok Aiuto Aiuto Eh sì Faccio subito Game mode Creative Eh mi dispiace Ma quanta vita ha sword Allora Sei Sette Dieci Undici Quattordici Quindici Spadate Con quelli in diamante E ci darà la sella No vabbè Messo faccio una cosa Quindi crossbow Prendiamo la crossbow Prendiamo anche delle frecce Perfetto Game mode Survival Ehi Ricarichiamo andando alla balestra Ma che fa il panda là sotto Mamma mia Ehi Oh Aia Aia Ah Raghi sono morto Mi ha distrutto Spara velocissimo Mamma mia Ma se noi andiamo ad uccidere Forse ci dropperà Qualcosa Penso Allora prendiamo un attimo Dove sta la nostra balestra Dove è finito Allora mi sa che forse Desponato Quindi vabbè Lo facciamo spawnere noi direttamente Ok Tac Uno Vediamo quanta vita ha Soprattutto Due Ok Ah Ci droppa uno smeraldo Questo solo vuol dire Che potremmo trovarlo Forse al di fuori Della magione Come se fosse una guardia Della magione Può essere come cosa Interessante A questo punto Voglio fare invece L'ultima cosa ragazzi Crea un mondo Soltanto giungla Raga sto creando Un mondo Che è soltanto Col bioma Della giungla Però Fatta col bambù Quindi vediamo un pochettino Adesso Tutti i vari Panda Cosa fanno Eccetera eccetera Poi non ho visto Sappiamo anche qui Quel blocco particolare Fativo da scaletta Adesso andiamo subito a cercare E per il resto Penso di aver visto tutto Uh guarda che bello Come bioma è molto bello Devo dire È veramente carino Ma non vedi panda Forse i panda ancora Non lo spawnano Nel mondo Mi sa qua ragazzi Ma meni lag Quanto frizza Comunque no ragazzi Lo scaffold Quello lì Non c'è Quindi qua non l'hanno aggiunto Ok Non vedi panda Purtroppo Però facciamo una cosa Prendiamo dei panda Ne sponiamo tanti Vediamo se ci sono tutte le varie varianti Abbiamo visto Nella versione bedrock Quindi questo qui Ecco normale Ma le mamme Che lag No 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 Fermo Ok si ragazzi Si c'è anche quello marroncino Comunque ragazzi Ok i panda ci sono tutti Perfetto Con questo mondo alle spalle Ragazzi Posso dirvi una cosa Che questo snapshot È veramente bellissimo Mi è piaciuto Mi è piaciuto un sacco Come avete visto appunto Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Se volete che continui Questa serie Dove faccio Tra virgolette La reaction Dei vari snapshot Che escono E detto questo E questo video Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto Se si fate un pollice in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché lì Ci sono tutti i link Dei miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Se non vi siete entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale Iniziate di iscrivervi Volendo vi iscrivervi al canale Basta che cliccare Nella notte Che sta qui C'è nello schermo E se già L'avete fatto Per cliccare la sinistra Adesso Vedere un attimo video Ragazzi Io vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti